Inizia con la polizia, l'anno scolastico di 25 studenti dell'Iceo Spaventa di Città Sant'Angelo. Incontro questa mattina in comune con i dirigenti della polizia stradale con l'obiettivo di inculcare nei giovani il rispetto della legge. Non basta più reprimere, dice un uomo indivisa attraverso uno schermo. In questo caso il tema è circoscritto alla sicurezza al volante. I ragazzi infatti, tutti i neomaggiorenni, sono nel periodo in cui si può conseguire la patente. Quest'anno, questo incontro è veramente importantissimo perché noi comunque con l'amministrazione comunale, con le altre associazioni, con le istituzioni e il territorio stiamo organizzando una scuola, un'educazione diffusa perché con il Covid e con le problematiche ad esse connesse noi comunque abbiamo fatto uno sforzo progettuale anche di aggregazione delle discipline e partire con un'attività laboratoriale che è collegata all'educazione civica, alla sicurezza stradale, al benessere dei ragazzi è anche un modo per abituarli alle regole condividendole e in questo momento condividere le regole, sentirle proprio è fondamentale. Secondo l'Istat, nel 2018, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, in Abruzzo si sono verificati 3.145 incidenti stradali che hanno provocato 76 morti e 4.683 feriti. Dalla sala consigliare di Città Sant'Angelo, gli studenti si sono collegati telematicamente con il Conservatorio Cascella dell'Aquila e il Liceo Romita di Campobasso. Investire su quella che può essere la formazione, l'informazione a questi giovani ragazzi che si approcciano a quello che è la vita al di fuori di quella scuola è una forma importante perché riesce a garantire una situazione di maggiore sicurezza per le macchine e soprattutto per la viabilità.